Immaginiamo di avere un dispositivo al quale vengono applicati due segnali, di chiamare questi due segnali v1 e v2 e la tensione di uscita del dispositivo v. Si definisce tensione differenziale rispetto a quei due segnali di ingresso, la differenza tra v1 e v2, la tensione di modo comune, common mode, la semisomma dei due segnali. Da questo deriva la considerazione per la quale si possono esprimere entrambi i segnali in funzione di tensione differenziale e tensione di modo comune. Questo tipo di trattazione è abbastanza frequente per quanto riguarda per esempio gli ingressi degli amplificatori operazionali o gli ingressi delle celle differenziali. Nelle celle differenziali siamo interessati ad amplificare il segnale differenza, che è questo, e a strutturare il progetto della cella differenziale affinché, per esempio, l'amplificazione di modo comune, che quindi riguarda il segnale espresso in questi termini, sia un'amplificazione sufficientemente bassa rispetto a quella differenziale. Se noi andiamo a calcolare la nostra uscita, l'uscita avrà una certa amplificazione che va a moltiplicare il segnale v1 e una amplificazione per il segnale v2. E questo tipo di suddivisione, una sorta di sovrapposizione degli effetti, può essere fatta perché si ipotizza di lavorare in zona di linearità. Questo significa che a1 va a moltiplicare il segnale somma tra il common mode e la metà del segnale differenza, mentre a2 va a moltiplicare la differenza tra quei segnali. Il segnale di uscita quindi diventa la differenza delle amplificazioni in relativa ai singoli segnali che moltiplica il segnale differenziale di ingresso, più la semisomma che va a moltiplicare il segnale common mode. Questa amplificazione viene chiamata amplificazione differenziale perché prende il segnale differenziale dell'ingresso e la porta in uscita, questa altra amplificazione di modo comune. Uno dei parametri importanti per capire la bontà di un componente destinato all'amplificazione di segnali differenza è il common mode re-action ratio. Questo rapporto di reiezione del modo comune, quindi di rifiuto del modo comune, dà conto del modulo del rapporto tra amplificazione differenziale e amplificazione in modo comune. E se è espresso in dB, si esprime in dB perché spesso questo rapporto ha valori molto elevati, per cui risulta più semplice un'espressione in unità logaritmiche che permettono una contrazione dell'asse e quindi una rappresentazione con numeri ragionevoli anche di numeri che sono molto elevati. Dal punto di vista pratico possiamo fare questa considerazione. Se noi ipotizziamo di avere un V1 di 500 microvolt e un V2 di 490 microvolt, avremo un segnale differenza pari a 495 microvolt e un segnale di modo comune pari a 495 microvolt. Valori classici che ci possono essere dell'amplificazione differenziale sono dell'ordine 10 alla quinta, 10 alla sesta. L'amplificazione di modo comune si può vedere dall'analisi della cella differenziale per piccolo segnale di modo comune, viene proporzionale alla resistenza di carico di collettore sul doppio della resistenza di uscita del generatore ricorrente che va ad alimentare il dispositivo. Dal punto di vista invece grafico, questo dal punto di vista analitico e numerico, dal punto di vista grafico potremmo avere delle situazioni di tipo diverso, nelle quali magari il segnale differenza è lo stesso, quindi ipotizziamo qui per esempio un segnale di differenza di 2 milivolt, la stessa cosa qui, ipotizziamo però qui un segnale di modo comune di 0 milivolt e qui un segnale di modo comune di 1 volt. Il segnale di modo comune di 1 volt significa che mi muovo intorno al punto di valore 1 volt, 0 volt invece in questo caso. In particolare dilatando la scala dei tempi sull'asse delle ordinate potrei avere un andamento di questo divo nel quale questa distanza è quella chiamata vd in particolare di 2 mili. L'andamento è ovviamente dilatato come scala delle tensioni, nel senso che se questo fosse 1 volt il millivolt sarebbe impercettibile come variazione. Noi siamo interessati soprattutto a quelle variazioni e potremmo eliminare questo common mode attraverso eventualmente in uscita se avessimo un valore di tensione continua diverso da 0 anche quando non c'è il segnale. Se avessimo qui un VCM diverso da 0 potremmo eliminarlo, eliminare l'influenza di questo VCM sugli stadi successivi attraverso dei condensatori di accoppiamento. Oppure se vogliamo accoppiare in continua tutto il dispositivo dovremmo cercare di far sì che in assenza di segnale le uscite dei vari dispositivi intermedi non influenzino l'uscita totale. Cioè senza mettere condensatori di accoppiamento cercare di far sì che sul carico finale non scorra corrente se non in presenza del segnale.